È stata presentata lo scorso sabato all'interno della Basilica di San Simplicio la maglia dell'Olbia Calcio dedicata alle celebrazioni per l'anno simpliciano. Il 2024 sarà un anno importante dedicato alla figura del santo patrono di Olbia. Hanno scelto la Basilica come rappresentanza giustamente sulla maglia, è stata una sorpresa perché sono loro che l'hanno voluto e questo mi ha fatto molto piacere. Anche perché l'Olbia Calcio ha intenzione di investire molto in città, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Questo è importante perché i ragazzi hanno molto bisogno di spazi e questa sinergia mi piace molto. Mi piace perché è una riappropriazione anche storica di una città molto antica che sta passando per essere nata avanti ieri. Tutto questo, l'ho detto prima, dopo 6.000 anni di storia mi pare veramente debole dal punto di vista, come dire, culturale. E' per questo che dico che tutti questi punti messi per fermi porteranno col tempo anche a una crescita di un mondo giovanile dentro questa città. Alla presentazione ufficiale della maglia hanno partecipato appunto il parroco di San Simplicio Dan Antonio Tamponi, il presidente dell'Olbia Calcio Alessandro Marino e i rappresentanti dei nuovi partner, le aziende Sportium e Mergers Corp. Abbiamo realizzato una maglia speciale per inaugurare l'anno Simpliciano, siamo molto orgogliosi in quanto ci dipinciamo un po' addosso i segni di questa bellissima basilica che è un simbolo della città e quindi ne andiamo fieri e siamo qui per inaugurare questa iniziativa che ci vuole legare di più alla città. Sportium, azienda italiana leader nella progettazione integrata di infrastrutture sportive moderne, affiancherà il club per la realizzazione di un nuovo stadio dei Guardiani del Fatto. Iniziamo adesso un'altra nuova avventura per assistere l'Olbia Calcio nella definizione e realizzazione successiva del nuovo stadio. Vogliamo proprio sposare questa nostra visione con l'Olbia e riuscire ad arrivare a dotare l'Olbia Calcio anche di un'infrastruttura sportiva importante che gli possa portare e supportare la crescita ai massimi livelli.